filmiamo mettiamo su quella lì che così se la vanno o la vanno e basta è uguale via via mettila su qua che vediamo se la vanno e asciugala un po che bagniamo e allora che la dupera bello quello che usavo io prima l'axoli osti ho visto i copertoni e ascolta li va a culo ma 24 tutte e due c'è la coppia si 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 ma sono nuovi né questa non so che cosa cazzo hanno fatto se bu si hanno cambiato le bici che io non la fa che stringo ho 27 5 infatti ho detto magari a qualcuno gli va bene ok per me gli abbiamo fatto un barbatrucco ne erano la candela paolino ti abbiamo ucciulato secondo me è proprio che non gli arriva benzina non gli arriva la benzina tirala giù e voti dentro un goccio di benzina vedere che magari gli fa da prova a vedere che secondo me gli votiamo dentro un goccino di benzina dopo parte fatto dai 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 non arriva la benzina, anzi finché si invasa non so cosa cazzo ha così l'aria chiusa arriva aperta morto non va più nooo accendi e basta accendi e basta ma quando fanno per un po' così è l'unica soluzione è l'unica soluzione, dai un fiammifero e basta basta ci devi fare buono 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 buono